L'amministrazione comunale Cristaldi ha accolto bene la proposta fatta dal comitato della casa del volontariato. Io come assessore alla pubblica istruzione ho coinvolto tutte le scuole di Mazzara del Vallo e questa sera hanno dato proprio della grande loro partecipazione. Volevo ringraziare il consigliere Foggia di aver collaborato con me con grande sinergia alla riuscita di questa bellissima serata. Speriamo che ce ne siano altre come queste perché è questo che Mazzara vuole, grande festa, grande partecipazione di tutta la gente. Questa sera posso dire che sono veramente emozionato, ho visto veramente molti bambini resi partecipi di questo bellissimo evento. Dico semplicemente che questo comunque non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Il carnevale a Mazzara sta migliorando, l'obiettivo è quello di migliorarsi anno dopo anno. Ormai è una tradizione che cerchiamo di mantenere insieme all'amministrazione comunale da 3-4 anni. L'obiettivo è quello di farlo crescere sempre di più e farlo diventare comunque un punto di riferimento nel periodo di carnevale, diciamo farlo diventare sempre di più Mazzara del Vallo, un punto di riferimento della provincia. La città ha risposto, ha risposto bene. Abbiamo visto molte famiglie partecipare, ma più che altro abbiamo visto molti ragazzi partecipare nella realizzazione di questi magnifici carri. Ormai siamo arrivati alla fine di questa prima serata. Il nostro appello è quello di inviare tutta la cittadinanza a partecipare sabato, che partirà dalle 4 dalla via Manolo di Sansone, per poi andare verso Molocaito, il lungomare, fare sempre il giro del Corso Umberto e arrivare poi infine al Piazza Mocarta. Stiamo passando un carnevale in allegra e colorata armonia. Dico semplicemente cittadini, cogliete l'occasione e divertitevi. Un grazie a tutti e un grazie a tutte quelle persone che stanno rendendo partecipe per realizzare questo bellissimo evento. Vi aspetto sabato prossimo, Trasmazzaro, di fronte alla Polizia, per il nuovo appuntamento alle 16 per la nuova uscita di carnevale. Vi auguro una cura di carnevale a tutti, buongiorno di grasso e che Dio, sfidatevi più in serie, che c'è lo carnevale. Oggi abbiamo trascosto una bellissima giornata del carnevale. Siamo divertite con tutti i bambini e vi aspettiamo sabato alle 16 di fronte alla Polizia. Se volete partecipare con entusiasmo, vi aspettiamo. Siamo dell'SD Le Parfalle e Mazzara. Ringrazio l'assessore spagnolo che ci ha dato l'opportunità di partecipare a questo carnevale. Ringrazio tutti i genitori e soprattutto le bambine che hanno avuto tanta pazienza e tanto divertimento. Grazie ancora all'SD Le Parfalle e Mazzara. Comitato Carnevale, ringraziamo tutta la cittadinanza che ha partecipato a questa sfilata di carne allegorici e vi invitiamo a partecipare alle successive serate che si svolgeranno sabato e domenica a Mazzara del Vallo e martedì a Borgata Costiera. Per lunedì pomeriggio aspettiamo tutti i bambini presso la casa del volontariato di Via Don Primo Mazzolari dove sarà tenuto uno spettacolo adatto ai più piccoli. Vi aspettiamo numerosi, vi ringraziamo, grazie. Ringraziamo la cittadinanza di Mazzara per la grande partecipazione, molti bambini, tanta allegria. Invitiamo tutti a partecipare nuovamente sabato, domenica, lunedì pomeriggio e martedì sera. Invitiamo tutti a partecipare nuovamente sabato, domenica, lunedì pomeriggio e martedì 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 pomeriggio. Arriva di Roma e ricorda un suo gran passaggio, porta a maschera e sull'entità, gioia e felicità. Vi cantare sta canzone che è la libertà, noi stori, io ho un bello, chi ti fa scialà, e tutti i libri in sé li fa sbordà. Arriva con gli stori, la maschera di questo carnevale stori, io ho un bello, chi ti fa scialà, e tutti i libri in sé li fa sbordà. Arriva con gli stori, arriva con gli stori, la maschera di questo carnevale stori. Arriva con gli stori, la maschera di questo carnevale stori, è una città, gioia di questo carnevale stori, la maschera di questo carnevale stori, Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti